Stiamo con Amedeo Guffanti, responsabile area performance della 77 Agency. Come mai questa adesione alla Social Media Week di Milano? Innanzitutto il social media è diventato uno degli ambiti principali del nostro servizio. Oramai sono più di due anni che offriamo servizio integrato social media. Ci abbiamo scommesso già dal 2008. Pensiamo che social media significhi la vera potenza del 2.0, che è un fenomeno che si sentiva già da diversi anni. Siamo stati dal 2008 in poi uno degli API partner di Facebook a livello globale e su questo abbiamo sviluppato non solo delle tecnologie proprietarie e delle soluzioni per questo, ma abbiamo aiutato diverse aziende a trovare una strategia, quindi prima ad approcciare, a definire e poi ad ingrandire quella che era la loro presenza social. Pensiamo sia di fatto uno dei fenomeni più interessanti e il nuovo vero mainstream media dopo la search, che continua a essere fondamentale. Oggi le persone possono trovare, grazie alle reference di chi conoscono, consigli, suggerimenti, farsi idea su un brand. Quindi se un brand oggi vuole comunicare su digitale, quindi vuole comunicare di fatto, è necessario che si preoccupi come trovare una strategia social media che funzioni. Quindi quali scenari si aprono per le aziende sui social network? Cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro? Sempre di più l'azienda diventa un nodo di una rete e quindi è soggetta a input degli utenti a più riprese, non è più un approccio dove l'azienda manda nella comunicazione, quindi di fatto semplicemente spinge la comunicazione verso l'utente, ma dovrebbe essere pronta a recepire diversi input, molto più veloce, molto più rapida. La comunicazione istituzionale perde di senso perché ormai le persone parlano del brand, anche se il brand non vuole avere una presenza social media. C'è lo stesso perché di fatto oggi le persone scambiano idee, commentano, studiano i prodotti, fanno comparazioni e quindi nascondersi non ha senso. In un ambito dove su Facebook oggi avete 16 milioni e 700 mila persone che mensilmente sono attive con commenti e post, sicuramente i brand sono la prima cosa di cui si discute. Pensate a Nutella e a Ferrero che oggi probabilmente tra i brand italiani è il brand col più alto seguito a livello social media. Questo vi fa capire come nessuno può essere un brand non adatto a comunicare col consumatore, e soprattutto non può permettersi di non avere una strategia per questo, perché altrimenti lasci che siano le persone e basta a guidare, invece l'azienda deve intervenire e deve intervenire facendolo in modo giusto, quindi comunicando a due vie, non semplicemente dando un input come invece è sempre stato. Grazie.